ciao allora oggi vi mostro un pochino le novità di essence che sono riuscita a comprare un po' da una parte un po dall'altra comunque sia un po d'attigota un po da ovs ma le ho trovate allora quella che intanto vi mostro per prima è questo primer è il prime più studio glow boasting pur minimizer with pink clay ok 30 ml viene 4 euro e 49 quindi dovrebbe essere illuminante ma riducente dei pori proviamo potrebbe piacermi detto così potrebbe anche piacermi allora mi sembrava molto illuminante e invece alla fine non è che illumina poi così tanto mi piace sempre di più quello del libro che diciamo che è molto molto profumato comunque questo è uno di quei prodotti da testare e poi dopo vi farò sapere sicuramente e allora finalmente sono riuscita a trovare tutte le novità che mi interessavano dell'essence partiamo con questo il mascara i nida miracle dice di essere volumizzante allungante vediamolo un po allo scovolino cicciottoso proviamo vediamo a questo costava se trovo nello scontorino quanto mai sarebbe costato 4 euro e 49 poi unico correttore che ho trovato ma va bene questo il camouflage matte concealer matt correttore viso il colore il 20 costava se mai lo troverò in questo scontrino magari ve lo dico dopo intanto provo a sbocciarlo 3 euro e 59 pennellino e questo abbastanza grosso vediamo sembra un po chiaro però è su base su base rosata vedremo vedremo come si comporta poi dopo le ho trovate tutte quelle disponibili le matite per le labbra queste qua di altre queste queste colorazioni non le ho ancora provate ma tutte le altre mi sono sempre trovata benissimo perché comunque sia hanno la mina sottile vedete vedete che sottile allora un euro 89 luna adesso ve le mostro magari abbiamo la prima che è questa qui si chiama 15 burgundy spirit che è questa bella bella oddio mi sta cascando la mascara poi dopo chiudiamo vediamo l'altra questa qui che è la 18 fancy blush a ognuna anche il suo temperino quindi se la vogliamo con la punta molto sottile e basta temperarla vediamo la seconda bella anche questa normalmente queste matite mi durano davvero molto a lungo quindi normalmente quando ci sono le prendo sempre anche le novità vediamo con la terza che è a 12 nid tu matuse rossa rossissima e veniamo con l'ultima che è la numero 11 cherry sweet quindi è un fucsia bella molto bella avevo paura che fosse troppo fucsia invece molto bella e mi piace allora queste qua era tutto il make up che io ho preso con le novità e non mi interessano altre novità e quindi per questa questa stagione autunno inverno delle novità essence ci fermiamo ora con questo video sono riuscita ad acquistare tutte le novità del momento da essence o soprattutto quelle che mi interessavano quindi fatemi sapere se c'è qualche prodotto in questione che vi interessa più di altri che volete vedere per primo perché così lo metto subito sotto test e gli faccio la recensione se ti è piaciuto il video come sempre mi raccomando di iscriverti al canale mettermi un like e cliccare sulla campanella così verrai avvisata quando carico un nuovo video ma ti ricordo anche di seguirmi su instagram e nel box informazione c'è il link perché li faccio nelle stories le recensioni brevi le first impression e quindi potete vedere fin da subito cosa penso di certi prodotti e alla prossima ciao